Primi giorni a Palazzo Ducale per il nuovo prefetto della provincia di Pesaro Urbino. La sessantenne cosentina Emanuela Saveria Greco succede a Tommaso Ricciardi, congedatosi a fine novembre dall'incarico in quanto raggiunta l'età pensionabile. La Greco rivestirà a Pesaro il suo primo incarico da prefetto dopo una lunga carriera istituzionale che l'ha vista operare alle prefetture di Asti, Cosenza, Milano e Vibo Valencia, fino al più recente incarico da vice prefetto Vicario a Pisa. Una prima settimana nel Pesarese partita all'insegna degli incontri istituzionali. Ieri ho incontrato il sindaco, il presidente della provincia e il presidente facente funzioni del tribunale. Sono giornate importanti di incontri e anche chiaramente di dialoghi sulle varie problematiche, sebbene molto contenute devo dire al momento della città, continueremo questi incontri per tutta la settimana, domani andiamo ad Urbino e con molto piacere conoscerò il sindaco di Urbino perché vorrei che le due città avessero il medesimo rilievo, quindi proporrò, ne ho già parlato ieri con i vertici delle forze dell'ordine, proporrò anche dei comitati che si possano tenere anche ad Urbino. Preoccupazioni non ne ho rilevate, abbiamo parlato di varie operazioni importanti che ci sono state e diciamo di qualche piccola criticità, piccola in sé ma non sentita piccola, intendiamoci, perché anche il furto che in sé potrebbe sembrare un reato meno grave, lo è di molti altri reati, quali quelli in materia di mafia, però destano preoccupazione nei cittadini, quindi l'intenzione e l'obiettivo sarà quello di assicurare al massimo, proprio il bisticcio di parola è perdonatemi, la sicurezza percepita dai cittadini, quindi sarà l'impegno massimo delle forze di polizia che già c'è, da quello che mi hanno detto, per i risultati ottenuti, ma continuerà ad essere massimo l'impegno proprio per far sì che i cittadini possono sentire di vivere serenamente nel proprio territorio. Non mi sentirai al momento con le informazioni e le notizie che ho ad oggi di poter dire che c'è un problema mafia in questa provincia, anche perché io ho svolto parte della mia carriera in territori molto molto delicati, quale è Vibo Valencia e quindi parliamo di cose molto diverse. C'è poi il tema immigrazione tornato in auge col primo arrivo ad Ancona in questi giorni di navi di migranti soccorsi nel Mediterraneo. Lo abbiamo sempre fatto con i prefetti nelle province in cui ho lavorato, come vicario, come capo di gabinetto, che è stato quello di gestire il fenomeno e non di subirlo, quindi cercheremo di gestirlo in modo che ci sia anche quella integrazione di cui molte volte si parla, ma che raramente si riesce ad ottenere. Aspettando di approfondire la conoscenza del territorio, la Greco ha avuto qualche anticipazione dalla rilevante considerazione che la provincia riceve dal Ministero dell'Interno. Tiene grande considerazione questa provincia sia per la prefettura, che è una delle prefetture più belle d'Italia, ma anche proprio come territorio. C'è veramente una grande attenzione, sì.